Ciao a tutti e benvenuti. Ora è ufficiale. Charlie Hannam e Dakota Johnson nel cast di 50 sfumature di grigio. Ne parliamo dopo il video. L'attesa è finita. Il prossimo primo agosto 2014, Christian Grey avrà il volto di Charlie Hannam, mentre nei panni di Anastasia Steele vedremo Dakota Johnson. 50 sfumature di grigio sarà diretto da Sam Taylor Johnson e prodotto da Michael De Luca e Dana Brunetti con la collaborazione dell'autrice della trilogia, E.L. James. Dakota Johnson, 23enne, modella e attrice statunitense, figlia di Don Johnson e Melanie Griffith, avrà il difficile compito di dar vita al bollente personaggio di Anastasia. Al suo fianco è Charlie Hannam, 33enne, attore britannico, conosciuto nelle ultime settimane grazie al Pacific Rim di Guillermo del Toro. Chi di voi si è appassionato al libro? Che dice di queste scelte attorali? Fateci sapere con i vostri commenti e già che ci siete mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook Film is Now. Ciao, alla prossima! Grazie mille!